E ora sto facendo il primo superiore. Now I am attend to the first high school, in high school, is it the first? Esco molto spesso con i miei amici e facciamo delle capolate per strada. Ok, I go out, generally I go out with my friends and they make some... ...mafiosi... ...mafiosi... Facciamo abbatte con i ragazzi e ci facciamo le gambe. I go out with the other guys and other people and... And then? Facciamo abbatte e ci facciamo le gambe. Ok, we smoke joint... Ok, what do you think about this story? What do you think about this story? Cosa pensi in this story? No, it's not bero. Cofì... Cosa? Cosa? It's not true. Alla, you say it's not true. Ok, what do you think? Why do you think? Maybe it's young for... other guys, smoke joint. Maybe it's not. It's very young for me. ti guardi il mio mi guardi ti guardi non si, non è vero Justin, penso penso che non come si chiede come si chiede